Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 per verifiche nelle gallerie sarà chiuso stanotte il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Roma con orario 22.6. In A1 tra Calenzano e Rioveggio in direzione Bologna, personale su strada per lavori. Sul raccordo Firenze-Siena per interventi di potatura delle alberature, scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo Colleval del Sasud che sarà chiuso in entrata in direzione Firenze fino al 2 dicembre. Ricordiamo anche che è già in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!